Presentata la prima edizione con il nuovo format di Asculum Festival, una a tre giorni dal primo al 3 di ottobre rivolta alla cultura, alla crescita personale e all'autoconsapevolezza. Il festival, promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Asculum e a cura di Life Strategies, è realizzato grazie anche al contributo della Regione Marche. Questa sarebbe un po' la sesta edizione, anche se la prima, perché Asculum nasce ben sei anni fa quando era assessore alla cultura. Abbiamo ideato questo festival proprio per arricchire le persone con tante presenti di relatori di fama nazionale e internazionale che con la loro esperienza ovviamente ci danno delle chiavi di lettura per come migliorare la nostra vita. La città di Asculum sarà di nuovo il teatro di numerosi appuntamenti interessanti che aggiungeranno il lustro e rafforzeranno la candidatura a capitale italiana della cultura nel 2024. Con Asculum portiamo importanti ospiti e importanti relatori da Martina Colombari a Valternudo a Giorgio Nardone, Oscar Di Montigny e molti altri. Quindi avremo questi tre giorni che vuole dare grande risalto alla città di Asculum ma vuole dare un messaggio chiaro che il capitale umano della nostra città può essere sprigionato, può sprigionare energie che possono dare valore alla città stessa ma anche alle persone stesse. I luoghi che accoglieranno gli eventi saranno i palazzi più importanti della città. Molti saranno anche gli ospiti di fama nazionale come Martina Colombari e Giusefa Idem. Una tre giorni ricchissima di appuntamenti, tante conferenze, performance artistiche ed esperienze legate a tre temi, a tre filoni corpo, anima e mente. In un momento in cui tutto sembra cambiato rispetto al passato, sappiamo che in questi due anni tutta la nostra esistenza è stata un po' messa in stand by, è giusto rimettere al centro la persona, creare una forma di nuovo umanesimo che ci spinga quindi a coltivare in noi stessi anche un po' la speranza.